L'inciviltà non conosce freno e le nostre campagne diventano sempre più discariche a cielo aperto. Nell'agro bitontino si può trovare davvero di tutto, pneumatici, elettrodomestici, amianto e ora persino rifiuti sanitari. Qualche giorno fa i volontari dei SAS hanno denunciato infatti l'ennesimo orrore. Un nostro concittadino, proprietario di un terreno in strada rotta alla capa, oltre a spazzatura di ogni genere, ha addirittura trovato rifiuti sanitari potenzialmente contagiosi e infetti e documentazione medica che riporta dati sensibilissimi. Non ci sono parole per descrivere lo scempio e la vergogna, è stato il commento dell'associazione. Intanto le nostre campagne sono anche teatro d'incendi. L'ultimo è stato documentato proprio ieri mattina.